Sabrina Salerno ha annunciato su Instagram di essere ricoverata in ospedale per sottoporsi a un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. La cantante, 56 anni, ha raccontato che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare momenti difficili, segnati da una montagna russa di emozioni, dalla paura iniziale alla voglia di combattere e superare la malattia. Nonostante le sfide, Sabrina ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza, probabilmente per sensibilizzare i suoi follower sulla prevenzione e sull'importanza di affrontare queste situazioni con coraggio. Ci siamo, tra poche ore entrerà in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio ha fatto la mammografia. La cantante ha raccontato che gli ultimi mesi non sono stati facili per lei. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia, ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. Poi ha fatto un appello alla prevenzione. La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita. La prevenzione e la diagnosi prevenzione.